Buongiorno, sono Fabio Cesarei dell'Associazione Porfiria Domenico Diso. L'Associazione affianca i centri di riferimento per promuovere la conoscenza delle diverse porfirie al fine di favorire la diagnosi precoce e l'efficacia cura dei pazienti che ne sono colpiti, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia. Il nostro motto? Affrontare le sfide.